Non ci posso credere che mercoledì vedo la mia famiglia, se esco, sarà tutto strano. Sarà strano per tutti. Passare da una realtà a un'altra. Se penso che, a parte quel flash qui di Barbara, l'ho vista l'ultima volta, il 5 di gennaio. Qui, proprio qui. 5 gennaio, non si è entrato l'otto? No, questo è il 5 di gennaio, e il 6 ero in albergo. Questo è il 5 di gennaio di sera a casa. E il 6 mattina sono venuti a prendere. E l'8 ero qui. Siamo stati chiusi tre giorni. Poi lei è venuta qui per un chiarimento tipo 25-27 di gennaio, ma 5 minuti, forse neanche. dove praticamente, cioè, è stato, cioè, quei 5 minuti, sono passati subito. E quindi, e quindi poi l'ho rivista lì nel video, come tu l'ho visto, Giovanni. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.